Dunque c'erano più di 400 bottiglie, dopo un po' ho smesso di contarle, le vedevo perché c'è stato questo incendio, ha pulito tutta la parte, quando si batteva la luce del sole si vedevano brillare. Alla fine mi sono deciso una domenica e le ho raccolte tutte. E così Valerio Vedovini si è rimboccato le maniche e si è messo a pulire un angolo dell'ex aria lebole, immediata periferia retina da anni di smessa, in attesa di un progetto di recupero, ma nella quale ad oggi regna il degrado. Valerio, armato di sacchi neri, ha raccolto da terra oltre 400 bottiglie di vetro. Sembrava un gesto, così diciamo, d'affetto nei confronti di casa mia. Un gesto che ha incuriosito anche chi ti ha visto a lavoro, chi passava di qua. Sì, diciamo che diverse persone sono passate, alcuni sono rigirati, si sono fermati un attimo. Sembrava che mi volessero dire qualcosa perché c'era il furgone, quindi sembrava un addetto alle pulizie, però poi non hanno detto niente. Sono un ragazzo di colori che si è fermato e mi ha detto buon lavoro. Infine le bottiglie raccolte sono state gettate dentro una campana di vetro. Quegli scarti che contribuivano al degrado dell'aria adesso avranno dunque una nuova vita. Se tutto va bene, magari la filiera funziona. Dunque una singolare e preziosa iniziativa di decoro urbano, ma Valerio si chiede anche cosa si possa fare per prevenire l'abbandono di rifiuti e il conseguente degrado. Diciamo che potrebbe essere resa più agevole in generale anche il nostro smaltimento e poi forse passarci una mano sulla coscienza, visto che il tempo poi alla fine può avanzare a tutti per una cosa del genere.